Bentrovati a tutti, chi vi parla è il Cavaliere Attilio de Lisa da Sanza. Con questo video do i miei più cari saluti e la mia piena vicinanza al nuovo Papa e mi riferisco a sua Santità Francesco, che è diretto verso i deboli, i poveri e i più piccoli. Inoltre faccio un saluto e do la mia piena vicinanza al Papa Emerito Benedetto XVI, da cui per ben due volte ho ricevuto la sua benedizione apostolica. Inoltre saluto e do la vicinanza allo Stato Vaticano e a tutta l'area cattolica, fino al mio Vescovo della Diocesi d'Ittegiano Policasto della provincia di Salerno e mi riferisco a Monsignor Antonio De Luca, oltre anche al Cardinale, sua eminenza reverendissimo, Seppe, Arcivescovo di Napoli, che è la prima autorità religiosa campana. Faccio di nuovo un saluto a tutti e alla prossima.